Eccoci Paolo, possiamo iniziare. Ci siamo, ci siamo. Buongiorno, buongiorno e bentrovati e benvenuti. Benvenuti a Casa Rossini, questo è il nostro salotto, il nostro spazio di casa, angolo di casa che ci accompagnerà per un po' di tempo. Paolo? E che tre giorni alla settimana apriamo alle telecamere con questa formula che ti sei voluta inventare e che abbiamo sposato immediatamente di telecamere aperte. Insomma, vedrete anche movimenti insoliti per quanto riguarda uno studio televisivo perché magari quando arriva l'ospite lo facciamo entrare e quando se ne va, se ne va. Se ci dobbiamo spostare per prendere un libro, per prendere una cosa, lo facciamo come proprio fossimo a casa nostra. Infatti sono le 10 e due minuti, siamo in diretta, siamo anche in diretta Facebook, quindi un saluto anche a tutti quelli che ci guardano su Facebook. Vi andiamo a presentare questo nuovo programma targato Rossini TV. Sapete che la nostra rassegna stampa è in diretta la mattina, il telegiornale eccetera, però ci mancava un salotto mattiniero, uno spazio dove far venire molto informale, dove far venire i personaggi del nostro territorio, parlare delle aziende, delle iniziative che ci sono e di vari argomenti di attualità. Un contenitore, come abbiamo detto, con ospiti in studio ma anche con rubrichette, collegamenti, a cominciare anche un po' dall'impostazione della trasmissione, della puntata, nella quale vogliamo dare un po' di spazio a note curiose legate al giorno, per esempio 30 secondi prima di andare in onda, Emi ci ha chiesto che giorno è oggi, perché non avendo il riferimento della rassegna stampa si entra in questo spazio senza tempo. Oggi è il 16 novembre, lunedì 16 novembre, tra l'altro novembre è un mese nel quale mi sono accorto anche andando a rivedere, così che mi succedono un sacco di cose, ho fatto viaggi, ho presentato libri, per quanto strano sia, anche se novembre di solito non è considerato mai un gran mese, invece novembre è il mio mese, oggi è il 16 novembre, negli anni normali sarebbe il 320esimo giorno dell'anno, ma questo è un anno bisestile, per cui è ovviamente il 321esimo, va là che è un anno bisestile e nessuno se ne era accorto? No, no, non se ne eravamo accorti. Mancano 45 giorni alla fine dell'anno, queste note ogni giorno io cercherò di tirarle fuori e di trovare il modo di inserirle a livello di curiosità, uno magari non lo sa e a un certo punto si ritrova. Una cosa bella, importante, anche per il nostro territorio, della quale probabilmente parleremo anche col primo ospite che non annunciamo ancora, è che oggi, voi sapete probabilmente, lo sapete forse no, che ogni giorno è una giornata mondiale di qualcosa, praticamente ogni giorno. Oggi è la giornata mondiale del motorismo storico, praticamente il motorismo storico sia a due ruote che a quattro ruote. Pesaro è chiaramente legata a questa cosa. C'è anche tutto un movimento mondiale, per cui questa è la locandina che il registro italiano dei veicoli storici ha realizzato per celebrare la giornata, molte manifestazioni si sono tenute nel weekend, perché ovviamente oggi è lunedì, per cui comunque c'è un riferimento anche nel weekend e tra queste alcune online per forza di cose e alcune dal vivo. Il motivo per cui è stato scelto questo giorno è perché 128 anni fa era nato Tazio Nuvolari, per cui è stata fatta una scelta. Tazio Nuvolari è sicuramente un riferimento internazionale, mondiale, per quanto riguarda la figura appunto del motorismo storico. Paolo, i problemi tecnici ogni tanto ci sono, questa è una impresa tra l'altro molto importante della TV, perché ricordiamo noi che siamo Mediaset oppure una TV che si sta da tutti i miei anni. Non diremo che è il bello della diretta, perché non è bello, però diremo che è la prova che siamo in diretta. Se non fossimo stati in diretta avremmo tagliato, tagliacuci, rimetti a posto, invece no, siamo veramente in diretta, c'è stata come qualcuno si sarà accorto un'interruzione di segnale e mi dicono che si è arrivati a Tazio Nuvolari, per cui eravamo al Santo del Giorno. Il Santo del Giorno è Sant'Agnese di Assisi, che è la sorella minore di Santa Chiara, da ricordare, e poi ci sono una serie di altre ricorrenze, sempre il 16 novembre come oggi, nel 29, vedi che tornano i motori, è stata fondata la scuderia Ferrari, mentre nel 92 c'è stata la scoperta del tesoro di Hoxn, che è il tesoro, penso un po', più ricco mai ritrovato da un cerca metalli sepolto, sotterrato in una cassetta di legno sottoterra nella contea di Hoxn in Inghilterra, hanno trovato queste 14 mila monete d'oro e 200 monili, per un totale stimato di quasi 2 milioni di sterline, per cui insomma è anche considerevole. Se pensa che in seguito a quello poi è stata cambiata la legge sul ritrovamento dei tesori. E quindi? Adesso c'è un'altra legge che fa sì che i tesori, quando sono trovati, sono dello Stato. Non è giusto allora, uno si affatica tanto con quell'aggeggio. Quello se l'è preso, però. Nel 96 invece madre Teresa di Calcutta ha ricevuto la cittadinanza onorare degli Stati Uniti. E ultimo, nel 2001, è uscito nelle sale il primo film di Harry Potter, Harry Potter e la pietra filosofale, che è diventato il secondo film nella classifica di incassi di tutti i tempi. Questo per dirti un po' anche non tanto cosa è successo oggi, quanto come abbiamo un po' pensato di impostare l'apertura del programma, che ricordiamo va in onda in diretta il lunedì, mercoledì, venerdì. Vogliamo dare anche i contatti? Ecco sì, diamo i contatti, perché chiaramente voi potrete partecipare attivamente sia commentando la nostra diretta su Facebook, ma anche mandandoci un WhatsApp al? Al 351 70 899 77. Prometto che lo imparo, eh? Lo imparo. Lo imparo, adesso oggi è ancora presto, poi ho un'età, però voglio dire, prima o poi imparerò a memoria il contatto. Oppure casa Rossini, chiocciolarossinitv.it. Te hai scelto quella più facile. Esatto, facilissimo, questa me la ricordo. Prima di arrivare all'ospite, che è già seduto qui con noi, ma ancora non lo facciamo vedere, volevo anche parlare e anzi dire questa good news, cioè far vedere l'immagine intanto di questa donna, lei si chiama Antonella Polimeni e pensate, lei ora guida l'Università della Sapienza di Roma, un'università la più antica, ecco lei Antonella, la vedete qui, giovane e dopo 700 anni di storia dell'Università Sapienza di Roma, finalmente a capo di questa università c'è una donna, quindi sono molto contenta, è una good news, stiamo andando verso la giusta direzione, pensate 700 anni, ci sono voluti, ci sono andando nella giusta direzione, la mente è lontana, speriamo che gli altri traguardi siano un pochino più immediati, più veloci. Si stringono un po' i tempi perché sennò diventa un po' lunga il percorso e sicuramente noi non vedremo come va a finire. A proposito di cultura. A proposito di cultura, noi sveliamo finalmente chi è l'ospite di oggi, che tiene a battesimo a tutti gli effetti, eccolo qua, la nostra trasmissione ed è l'assessore Daniele Vimini al quale diamo il benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Daniele, grazie per essere qui oggi, ci fa molto piacere perché insomma apriamo con il vice sindaco della città di Pesaro e quindi siamo distanziati, ricordo a casa che siamo tutti distanziati. Si vede bene anche dal totale, se allunghiamo il braccio si vede benissimo che siamo oltre, ben oltre il metro e lo diciamo con un po' di leggerezza ma è un argomento molto importante per cui non è che ci scherziamo su, ci scherziamo nel dirlo ma non ci scherziamo per niente nel farlo perché è sicuramente uno dei temi assoluti di questo momento, cioè stare a a osservare scrupolosamente queste regole che ci vengono indicate come il sistema più efficace per uscire da questa situazione dalla quale veramente vogliamo tutti uscire il più presto possibile e questo è il pistolotto iniziale ma mi sentivo di farlo perché ovviamente se no sembrava che prendessimo in giro la situazione invece così non è. Allora Daniele Vimini, assessore alla bellezza, vice sindaco con deleghe culture e turismo, gemellaggi e cooperazione internazionale, ricerca di finanziamenti nazionali e comunitari e presidente del consorzio Marche Spettacolo. Questa è una sintesi che ho fatto anche perché un'altra delle chiavi di questa trasmissione potrebbe essere proprio questa, quella che abbiamo pensato, cioè noi ovviamente spessissimo intervistiamo personaggi della cultura, della politica, però si dà quasi per scontato che siano personaggi conosciuti anche nei dettagli magari meno noti. Invece questi dettagli sono appunto meno noti e ci piace un po' risottolinearli. Per esempio Daniele Vimini è nato il 26 settembre della bilancia e io nel libro personology che è un librone che ho cercato e trovato apposta vado a scoprire alcune cose molto sintetiche. Per esempio vedo che il 26 settembre viene definito il giorno della pratica paziente e qui diciamo che ci possiamo anche stare. In questo giorno sono nati anche Enzo Berzot, probabilmente l'assessore lo sapeva, è nato anche Thomas Eliot, il poeta saggista statunitense, Martin Heidegger il filosofo tedesco e soprattutto è nata Olivia Newton-John esattamente 30 anni prima perché è nata nel 48, mentre l'assessore del 78, giovanissimo tra l'altro, grande invidia per questi due ragazzotti che mi trovo sul divano, mentre io ormai, vabbè, pregi, tecnico, influente, tenace, difetti li diciamo? Diciamoli, ossessivo, autoritario e segreto, segreto. Segreto chissà. Diciamo riservato, dai, ok, metto giù il libro, vuoi sapere anche i tuoi? Sì, ma non ci prende molto secondo me questo libro, ho questa sensazione, un'investimento notevole, insomma volevo... Io ho primo sbirciato la mia pagina. Allora, devo dire che in effetti il tuo il giorno del distacco, 21 agosto, Emanuela Rossi 21 agosto, il giorno del distacco, ma da cosa, non si sa, sono nati Caundesi, Guglielmo IV, Laura Morante, Peter Weir, regista dell'attimo fuggente, eccetera, pregi, tranquilla, pronta a sostenere, protettiva, beh, questo sì, dai, ci siamo, no? Sì, sì, sì. Nei difetti, iperprotettiva, per cui... E' un difetto. Cioè, protettiva, ma ne esagerè, per dirlo in dialetto, insomma, che ogni tanto va bene, introverso e sfuggente. Un po' sfuggente? No, sfuggente, introverso no, però... Introverso no. Introverso direi di no, e beh, no, ragazzi, mica, cioè, tutti quanti... Lì c'è scritto che non so cucinare, perché invece tra le doti di Daniele è che lui è bravissimo a cucinare, Beh, una passione che nasce dal mangiare, quindi poi... Bellissimo. Addirittura anche la cucina giapponese adesso... No, Lili, mi sono anche scusato, anche con i tanti amici giapponesi, sia a Pesaro che in giro era... Perché poi fai una cosa, ti sembra quasi venuta bene, poi ti immagini, no? L'americano che fa la pasta e che pensa di averla fatta bene, no? Esatto, quindi c'è questa immedesimazione, no, vabbè, un gioco più che altro della domenica e con un po' più di tempo in famiglia, però in generale sì, mi piace, mi piace anche come elemento di socialità, elemento che ora viene un po' meno, quindi insomma dalla dimensione degli amici, della compagnia, insomma, ritorna nella misura familiare, però insomma, sicuramente il convivio, la tavola, non so se sei scritto, insomma, ma insomma è una delle cose che... Non andremo a approfondire... Tra l'altro hai fatto scorta di lievito perché ieri volevo fare la crescia di Pasqua, lievito sparito, non c'era più da nessuna parte, quindi bisogna fare un po' di scorte. Diventa ancora una volta uno degli oggetti del desiderio, no? Mi ricorda una cosa che, vabbè, interesserà a pochi, però quando io ho fatto indietro tutta, dall'epoca la pubblicità finta del cacao meravigliavo aveva fatto sparire il cacao normale dalle drogherie e dai negozi, no? E qui uguale, cioè c'è questa nomea che il lievito serve... Quelli che cercavano proprio il cacao meravigliavo, non capendo che... Quelli proprio cercavano il cacao meravigliavo proprio, no? E non capivano che era una parodia, una parodia. Ma la cosa fantastica era proprio questa, cioè che c'era una sorta di identificazione, cioè la pubblicità arrivava anche nel prodotto generico. Qui siamo dalle stesse parti, perché qui si parla tanto di questo lievito che io sono sicuro che lo compro anche della gente che poi non sa cosa farci, perché sicuramente uno dice, boh, tutti vogliono il lievito, andiamo a comprare altro lievito, vabbè. E' un bene rifugio, diciamo. Esatto, un domani lo rivendo per riguadagnare. La cassettina con 160.000 rigotti di lievito. Allora, assessore, i recenti provvedimenti a questo proposito sul Covid meritano, cioè contro il Covid meritano una sottolineatura, questo milione di euro che è stato in qualche modo frazionato giustamente e distribuito anche in questi giorni e sarà in distribuzione anche nei prossimi. Tra l'altro cittadinanza meritano sicuramente una sottolineatura. Sì, è un provvedimento importante che siamo riusciti a ottenere rispetto alle scelte del governo. Come sapete, sono stati fatti alcuni provvedimenti di ristoro anche per le aree del paese, in particolar modo noi eravamo fuori da questa prima fase perché erano riservate alle zone rosse, mentre noi realmente non siamo mai stati in zona rossa nella prima ondata, diciamo. Lo siamo stati, ma quando in realtà non era più rossa, il tema dei colori è ricorrente, e aveva già riguardato tutto l'Italia, mentre Rimini, ad esempio, lo è stato per alcuni giorni, e quindi ha avuto anche un ristoro particolare. Nel caso nostro, appunto, è un milione che è stato destinato al Comune di Pesaro e ad altri comuni in Italia che hanno avuto un alto indice tra deceduti, contagiati, diciamo, e abitanti. Insomma, un milione importante perché è un milione che si aggiunge a quelle che sono le economie della città, anche le politiche pubbliche della città, e sono scelte tre linee di intervento che andassero un po' a inserirsi anche in maniera complementare rispetto a quelle categorie non solo più svantaggiate, ma che sono state meno lambite o meno coinvolte da altri aiuti, o anche con una filosofia di aiutare l'economia cittadina. Quindi sono stati divisi e sono in distribuzione in questi giorni in 300.000 euro in buoni spesa, che sono, diciamo, un aggiornamento anche di quello che era il provvedimento che si tenne nel mese di aprile, mi sembra, nel periodo di Pasqua, ecco. E quindi, diciamo, buoni spesa per le famiglie, con un, chiaramente, moltiplicatore crescente in base al numero di figli e anche, naturalmente, al reddito. E quindi, diciamo, la possibilità di un aiuto per quello che riguarda la spesa, le spese di tutti i giorni, i beni di prime necessità, e anche alcuni asporti, come pizzeria al taglio, insomma, cose che aiutano una famiglia a vivere maggiormente una normalità in questa fase. 600.000 euro di questi, invece, sono stati destinati a un bonus crescita, così chiamato, perché, ovviamente, ad avere sofferto maggiormente di questa situazione sono anche i più piccoli e sono anche quelli che hanno bisogno di più strumenti, non solo per ripartire, ma per costruire una normalità ulteriore e anche averne le possibilità. E quindi questo bonus crescita, che riguarda dall'acquisto di libri all'acquisto di materiali didattici, all'acquisto anche di materiali non solo per il digital divide, quindi tolti i telefonini, che non abbiamo ricompreso, perché potevano dare adito, diciamo, a interpretazioni sbagliate del bonus, però tablet, tutto quello che può aiutare una famiglia a essere maggiormente connessa, sia per la didattica a distanza, ma anche, diciamo, a scalare per tutti quelli che possono essere per l'esigenza di una famiglia, perché magari la didattica a distanza ce l'ha il fratello grande, però... Quell'altro deve farla... O la madre, o il padre al teleravoro, eccetera. Quindi questo elemento l'abbiamo implementato a tutti quelli che sono gli ambiti, diciamo, della formazione, quindi anche, ad esempio, per chi si accrediterà, la possibilità di fare dei corsi, di corsi di inclusione, di corsi legati anche, diciamo, al supervento delle barriere, dal punto di vista cognitivo, quindi, insomma, abbastanza orientato, fino agli strumenti musicali, corsi di musica, o dove si potranno ancora tenere, perché poi, ovviamente, il bonus varrà per più settimane, anche lo sport, diciamo, le lezioni di pallavolo, piuttosto che... Quindi, diciamo, a 360 gradi la crescita e, diciamo, i percorsi di crescita e un aiuto alle famiglie in questa direzione. La soglia a cui si poteva accedere era, diciamo, una soglia normale, non era solamente per le famiglie più indigenti, perché, chiaramente, nell'aumentare le spese, diciamo, per tutti diventa più complicato quel qualcosa in più, che in realtà non è un più, ma è quello che dovrebbe essere la normalità della crescita dei figli. Ma anche qui abbiamo visto che nel numero di domande non c'è stato un abuso, insomma, si pensava al figlio del notaio, insomma, che andava... Non è così, insomma, i pesaresi sono molto responsabili su questo, si è rivolto chi ne aveva veramente bisogno. E l'ultima parte del provvedimento, avete 100.000 euro, per cui sono arrivate alla fine 80 domande, quindi forse c'è stato un piccolo risparmio che verrà ridistribuito in altri buoni, per le imprese che hanno avuto un crollo reale del fatturato, quindi abbiamo individuato un 80% di crollo, che è un numero alto, ma in realtà è esistente per molte realtà, in realtà che magari hanno avuto anche altri aiuti dallo Stato, dalla Regione nei mesi scorsi, ma che comunque andavano in qualche modo riconosciute. Caso emblematico le agenzie di viaggi o i wedding planner, cioè in realtà che hanno visto scomparire di fatto un mercato, che anzi poi anche da qui ai mesi in avanti vedono anche abbastanza complicato o nero il futuro, e quindi magari non hanno già avuto un ristoro dal Governo o dalla Regione nei mesi scorsi, ma ci sembrava, come poi ricordiamo anche la protesta, comprensibile anche delle agenzie di viaggio, anche qualche polemica di troppo, ma ci sta nell'esasperazione con l'amministrazione, anche per questo abbiamo cercato di utilizzare questo strumento appunto come rimbalzo, ed è stato aperto anche a tutti i codici a te, con lo spettacolo e la cultura, anche questo è importante, insomma, dal suggeritore in buca, che forse non esiste più, insomma, a tutti quelli che sono i mestieri dello spettacolo e della cultura, sono stati ricompresi in questo tipo di intervento, che non è il primo, non sarà l'ultimo, ma ha voluto cercare di fotografare una situazione e quindi andare a dare una prima risposta importante, ripeto, con un milione che non c'era, ma che è stato reimmesso quindi in una economia cittadina facendo da moltiplicatore, perché poi tutte le spese vanno svolte in esercizi, negozi, attività, eccetera, della città di Pesaro, quindi diventa moltiplicatore importante di lavoro. Il tempo vuole, eh? Guarda, io sto guardando l'orologio e sono impressionante. Sono le 10 e 26 minuti, sì. Io volevo parlare un po' di bellezza, però, perché a questo punto l'assessorato alla bellezza me ne dà la possibilità e noi eravamo a registrare, ma in diretta, nel momento in cui è arrivato il famoso decreto di fine ottobre, quello che ha chiuso Cinema Teatri, con una reazione anche abbastanza arrabbiata, c'era con noi Sindaco Ricci, insomma, poi ci si è resi conto che andando avanti era solo il primo dei provvedimenti. Pesaro si può vantare di essere la città che ha riempito lo spazio disponibile, dal primo spettacolo di mezzanotte con Ascani e Celestini fino appunto alla premiazione dei GAD, per cui il tempo utile è stato tutto riempito a dovere. Che cosa ci stiamo perdendo a questo punto? Cosa abbiamo perso e cosa ci perderemo nei prossimi mesi di bellezza? E in che modo, e qui do il gancio, il Comune sta organizzandosi, il Comune e tutti gli enti collegati stanno organizzandosi per rimediare? Chiaramente ci stiamo perdendo tanto, tante occasioni di bellezza, appunto di cultura, di momenti di socialità, anche perché poi la cultura è vissuta assieme, anche socialità, che sia il foie di un teatro, che sia andare al cinema, che sia andare a visitare una mostra, piuttosto che... L'elenco delle cose che abbiamo voluto interrompere sarebbe anche troppo triste, la mostra a noi sulla storia della canzone, che era una grandissima opportunità anche di racconto di storia contemporanea dell'Italia attraverso la canzone. Stiamo cercando, già l'avamo prorogata il 10 gennaio, cercheremo di capire come attualizzarla, come magari raccontarla anche televisivamente, magari potremo ritornarci. Fino appunto ai progetti dell'Accademia di Belle Arti di Urbino, con tutti gli studenti che stavano esponendo il loro lavoro in pescheria. Insomma, per ora meglio non pensarci, cercheremo di fare un racconto digitale e televisivo il più possibile, dove avrà senso, anche perché comunque credo che la dimensione digitale sarà una dimensione che ci dovremmo comunque abituare, anche nel futuro, perché comunque è entrata maggiormente nelle nostre corde e stiamo diventando forse ognuno nel proprio ambito anche un po' più bravi a raccontarci e a cercare quindi anche di arrivare a un pubblico più ampio che poi magari quello che ti riporti nell'esperienza poi vera e propria appena sarà possibile svolgerla, diciamo. In generale, quindi non solo musei, ovviamente lo spettacolo al vivo è il più grande colpito da questa vicenda, abbiamo cercato dove possibile con il Rosina Fara Festival, ad esempio di confermare il lavoro, confermare il lavoro degli artisti, perché a differenza di maggio quando non si poteva entrare a teatro non è che per controllare i libri diciamo di esercizi del teatro, ora i teatri sono aperti come prove, come attività e quindi stiamo spingendo molto l'attività da remoto in digitale, nuove produzioni, un bando regionale è stato convertito da fisico a digitale, quindi c'è la possibilità di partecipare per finanziamenti, per spettacoli che vadano online, quindi questa tensione c'è il più possibile, l'Orchestra Sinfonica ieri ha avviato un progetto anche loro su Beethoven che poi andrà a comporre una Santa Cecilia diversa ma importante nella ricorrenza, quindi si cerca di muovere in questa direzione, le biblioteche stanno facendo tanto, lo avete raccontato anche voi con un bel servizio venerdì sera, poi ci saranno altre novità in settimana, questa cosa addirittura del prestito e della consegna di libri a domicilio, grazie agli operatori, le operatrici in particolar modo, della San Giovanni e delle biblioteche di quartiere fantastiche in questa direzione, i libri, i pacchi di libri a sorpresa iniziati da Borgo e Santa Maria, ma anche Villa Fastigi, biblioteche di Abraille, Cinque Torri, insomma le quattro biblioteche partecipano anche a quelli di libri a sorpresa e c'è una novità che dovrebbe essere comunichata oggi, ma la diamo come anteprima, diciamo, posso averne poi il diritto, anche se poi in realtà il merito è degli operatori, le operatrici della Biblioteca San Giovanni, questo è anche l'anno di Rodari, tra le opportunità colte non appieno con le limitazioni che abbiamo, si è svolto molto sull'anno di Rodari, ma ancora tanto c'è da fare per questa figura così straordinaria nel suo centenario, un favore al telefono e questa settimana inizierà un progetto della Biblioteca San Giovanni che prevede la possibilità di poter, per i bambini, ricevere una telefonata da un lettore, una lettrice che quindi leggerà al telefono ai bambini delle fiabe di Rodari in particolar modo, quindi diciamo un meta omaggio a questa grande figura ma che tiene insieme anche poi quello che deve essere la cultura, soprattutto in una città come la nostra, l'elemento digitale ma anche l'elemento di comunità, cercare anche gli strumenti adatti e soprattutto diciamo farlo con la forza di un'istituzione come la Biblioteca San Giovanni che diciamo è riferimento da ormai vent'anni di più generazioni ormai. Adesso dico una cosa che è una vita che volevo dirla, avrei un sacco di altre domande ma purtroppo il tempo stringe adesso lo richiameremo il tempo è tirando come si dice e uno fa lo sogna tutta la vita ma niente, niente non siamo ci sono altre ci saranno altri appuntamenti? Sì assolutamente c'è stato questo bel avvio con il concerto pianistico con i Piscini de Vies di sabato sera e ieri sera con la messa di Milano e Miserere hanno avuto entrambi un bel successo di critica ma anche di critica tecnica per quello che dicevamo perché tutto è funzionato molto bene dal punto di vista della qualità di trasmissione bisogna andare sul sito sul sito del Rossinio Parafestival sul sito del Rossinio Parafestival chiaramente ci sono problemi come sempre di diritti quindi è una vera diretta nel senso che poi non rimangono visibili è del motivo per cui le prossime come il Barbieri di Siviglia e come il Viaggio Reims un barbiere fantastico di Pierluigi Pizzi che abbiamo ammirato a teatro due anni fa saranno finestre che si apriranno quindi non rimarrà poi visibile per settimane quindi bisogna vederli nell'orario esatto e nel motivo per cui anche per garantire più lavoro ma anche perché ci piacero questo tipo di idee di rappresentazione non sarà solamente una replica ad andare in scena ma l'opera verrà replicata realmente tre volte e tre volte andrà in diretta streaming e questo è l'accordo anche con la società di diritti con la Ricordi eccetera e quindi diciamo la possibilità tanto più lavoro tanta più musica nel vivo e come spesso capita e diciamo magari uno non compra mai tre biglietti vedere che nella meraviglia rappresentata dall'opera nessuno spettacolo è mai uguale all'altro quindi se uno non ci credeva normalmente non compra tre biglietti meno che non sia uno dei lavori che può quindi andate sul sito del Rossini Opera Festival e vedete tutti gli appuntamenti i prossimi appuntamenti che ci saranno perché veramente avvengono esatto nel nostro teatro Rossini quindi è un modo per essere lì non esserci ma vederlo da casa di questo trasformare le difficoltà in opportunità torneremo a parlare con l'assessore perché ce ne sono state veramente tante e il mondo dello spettacolo ha richiesto di aguzzare l'ingegno come forse altri ambiti non hanno avuto necessità di fare perché è ovvio che altrimenti si sarebbe chiuso a doppia mandata messo il chiavistello e finito tutto invece è stato necessario è l'ambito della creatività quindi insomma è una caratteristica che abbiamo però ci piacerebbe anche un po' di normalità esatto un po' di normalità non guasta allora la seconda cosa che avrei sempre voluto dire è benissimo si conclude questa prima parte della trasmissione ma voi restate con noi perché poi dopo la pubblicità torniamo con un altro ospite a tra poco a poco eccoci tornati in diretta Paolo ci siamo com'è difficile correre dietro al tempo guarda guardo l'orologio e mi agito io volevo dire anche al pubblico a casa che questo è un programma che verrà coordinato insomma e gestito da Paolo e quindi ogni tanto verrò a fare delle incursioni perché voi mi vedete insomma io sono giornalista sono il direttore responsabile del telegiornale ho tante cose da seguire e seguo anche le aziende e i nostri clienti perché noi siamo una tv commerciale una tv privata e quindi il nostro sostentamento arriva proprio dai clienti che utilizzano Rossini TV come strumento di comunicazione i clienti ce li ho tutti nel mio cuore sempre perché comunque per loro insomma diventiamo amici ormai no? e allora questo salotto televisivo è anche uno spazio dedicato a loro in questo momento di difficoltà dobbiamo supportare il nostro il nostro territorio i nostri artigiani che stanno veramente vivendo un periodo molto molto difficile e soprattutto i nostri negozi quindi lo invito a tutti voi voi che magari siete abituati a fare acquisti online in questo periodo storico che è veramente molto particolare cercate di acquistare i prodotti nei nostri negozi nel nostro territorio evitate per il momento di andare sul web e fare acquisti cose che arrivano dalla Cina dall'America cerchiamo di di comprare le cose per aiutare il nostro territorio perché veramente ci dobbiamo aiutare tutti allora Paolo oggi ti presento ma tu già lo conosci Giovanni ecco qua ciao Giovanni ti prendi il microfono buongiorno ecco qui e quando si parla di artigiani veramente tu scoprirai anzi faremo scoprire al nostro pubblico che qui si parla veramente di artigiani veramente di un'azienda che ha da raccontare tanto e di un ragazzo pieno di attività allora io ve lo lascio buon divertimento ci vediamo prossimi giorni Paolo ok un saluto a tutti vai pure a fare il tuo lavoro vedi questo era il senso che dicevamo prima proprio l'uscita in diretta va benissimo ma era voluto attenzione non è un errore di regia o qualcosa del genere era proprio voluto buongiorno Giovanni Giovanni Arduini che io ho studiato molto è il titolare dell'arte del riposo è stato facile per me studiare perché ho studiato guardandomi il bellissimo speciale realizzato da Marco Cadedu che tra l'altro scogliamo l'occasione per salutare nel quale viene raccontata in dettaglio tutta la situazione e tutto lo sviluppo e tutta la storia un po' della tua attività ma noi qui vogliamo anche conoscere meglio i personaggi allora Giovanni Arduini è nato il 9 marzo giorno dei pesci devi sapere che io ho preso questo librone che si chiama Personology e in questo librone il 9 marzo non è che lo leggo tutto ma mi dice adesso lo troverò sicuramente è qua giù mi dice sul 9 marzo che è il giorno del viaggio nello spazio probabilmente non lo sai neanche tu e tra i pregi c'è intuitivo sognatore e riflessivo devo dire che quando l'ho visto ho detto torna un po' con questo speciale perché la storia dell'azienda è quella si è partiti vediamo se ho studiato bene da 13 anni 14 anni da dipendente di un'azienda che produceva materassi e poi piano piano attraverso un passaggio nel commercio attraverso un'azienda fatta in società e tutto il resto si è arrivati a gestire in proprio un'industria un'attività di produzione di materassi questo è il sunto molto veloce però facciamo un piccolo escursus io andando a sbirciare in quello spione che è Facebook ormai nel quale noi raccontiamo tutta la nostra vita poi ci stupiamo se qualcuno dice ma come fa questo a sapere tante cose di me basta andare a guardare ho scoperto ho visto delle foto a cavallo di potenti moto con tanto di tutta di pelle e ti domando è una passione o è stato anche un momento agonistico è stata una passione una passione che ho sempre avuto da molto giovane da 14enne con il primo cinquantino poi come ho potuto ho messo la ruota in pista e fino a tutt'oggi ancora ho moto da corsa in pista e moto su strada dove non faccio più le corse basta basta così basta però è stata una passione è stata una passione condivisa con amici tra l'altro piloti che gareggiano tutto seguono su insieme io non ho avuto la fortuna diciamo così di avere sponsor di avere per fare il salto per andare a correre e ho continuato per divertirmi basta puro divertimento per cui soddisfazione per la chiusura anticipata del mondiale del MotoGP di ieri oppure allora diciamo che è un anno mondiale strano un mondiale strano dove è stato un po' falsate sono state falsate le carte in tavola diciamo che Suzuki tanto di cappello perché ha fatto una moto veramente facile veramente facile con dei giovani aggressivi bravi ma oltre ad essere aggressivi sono state molto anche calcolatori ragionieri non a caso vince il mondiale uno che ha vinto una gara solo per cui è stato bravo ad accontentarsi quando ad accontentarsi senza rischiare la caduta per arrivare per forza davanti un jolly grosso è la mancanza di market non c'è lui è la virtuale è la sostanziale assenza di Valentino che ovviamente pur non essendo probabilmente andando avanti mai legato all'idea di vincere un altro mondiale però dentro i cuori nostri insomma ci stavano per cui la speranza quella di vedere vale sempre lì davanti ma comunque insomma sono stati bravi e ce l'hanno fatta hanno profittato delle hanno vinto l'anno giusto adesso li vediamo l'anno prossimo insomma adesso vediamo l'anno prossimo vediamo bisogna vedere ci sono diverse cose da vedere a parte i piloti ritorno di market la reazione di Honda perché Honda quest'anno moto è stata inesistente non si è mai vista la davanti ha vinto Ducate ha vinto Suzuki ha vinto Yamaha ma Honda ha vinto KTM ma Honda è sparita per cui penso che Honda debba fare una reazione alla giapponese vedete cosa ho combinato ho combinato che ho dato l'azzica a Giovanni e lui ci ha raccontato in maniera dettagliata anche questa questa sua approccio e questo è un po' quello che io vorrei fare in questo in questo programma quello di conoscere un po' meglio le persone perché altrimenti sarebbe un prolungamento sostanzialmente dalla pubblicità poi la pubblicità arriva perché adesso dobbiamo raccontare però dell'azienda del Beach Tennis parliamo un'altra volta che è l'altra passione dobbiamo parlare un po' dell'azienda che ha questa caratteristica di produrre in proprio e di vendere in un altro spazio perché da quello che ho capito nello speciale ovviamente si è passati da un meccanismo di vendita attraverso la presenza nei centri commerciali ad attivarsi proprio allora diciamo subito bene ai nostri telespettatori dove è il tuo showroom perché definirlo negozio è talmente gigantesco ovviamente per mettere in mostra tutto quello che produci che definire un negozio è riduttivo sì allora noi abbiamo creato uno showroom diretto di fabbrica per cui senza rivenditori senza passaggi rappresentanti per cui molti ci chiedono ma il prezzo è come quello di fabbrica? sì il prezzo è quello che faremmo dentro la fabbrica ma abbiamo dato la possibilità di poter rivedere tutta la nostra variante di prodotti è sito in strada a Montefeltro 49 di fronte a Toys al Media World per avere a secondo piano sotto c'è un'azienda che vende camerette c'è un tappertiere che fa divani sopra c'è il nostro showroom dove si possono provare ordinare essere consigliati perché abbiamo comunque delle o delle dipendenti delle commesse che sono preparatissime nel consigliare il materasso giusto perché poi il materasso va anche consigliato come ho detto anche nello speciale non esiste un materasso che va bene per tutti perché molti credono compro quello lo trovo su internet lo trovo è un materasso in memory costa poco sicuramente va bene perché c'è scritto memory non è proprio così bisogna essere un attimino consigliati in base a struttura fisica problemi fisici postura nel sonno e tante altre cose questo infatti è il dubbio di sempre ma in qualunque acquisto cioè la moltitudine di proposte quasi quasi alle volte spiazza talmente tanto che uno dice vabbè non ci capisco niente rinvia magari o rinvia o addirittura sconsiglia l'acquisto perché uno dice come faccio e se poi sbaglio ecco in questo caso invece ci siete voi a garantire che non sbagliamo? no allora noi diciamo questo diciamo che garantire al 100% che non sbagliamo non è possibile è possibile dire che con l'esperienza accumulata in tanti anni in base diciamo al colloquio che viene con il cliente perché poi con il cliente si parla e si arriva a capire esigenze fisicamente si vede come la persona e si può consigliare per il bene della persona a volte anche contro tendenza perché magari molti pensano il materasso più costoso è quello che va meglio sicuro non è vero a volte per alcune situazioni quello che costa leggermente meno è quello che va bene per quella situazione e poi essendo del territorio una cosa importante che noi diciamo sempre essendo quale territorio producendo di noi qualsiasi cosa succeda non vada bene ci sia da rivedere qualcosa siamo sempre a disposizione differente da un rivenditore che una volta hai compratto l'hai scelto ma trarci quello invece noi diciamo siamo nel limite del possibile a venire incontro ai clienti certo per cui diciamo che la procedura è quella di venire da voi oppure e qui faccio la domanda capziosa perché io già so la risposta venite anche voi a casa nostra allora noi facciamo anche un servizio di consulenza gratuita diciamola così qualora ci sia la reale necessità di acquistare i materassi io si lo devo acquistare però mi serve qualcuno che mi controlla la base la rete se è ancora buona non è buona perché molte volte il materasso poi è una cosa che è la rete se l'appoggio non è valido bisogna dire guarda che quella rete magari è datata è storta si è rovinata bisogna cambiarla oppure persone anche di una serata che hanno difficoltà nel poter rilevare le misure precise per il materasso o anche magari persone che non riescono poi a raggiungerci nel showroom persone anziane persone avremo bisogno noi gratuitamente andiamo a casa senza aggiunti di costi per cui non è che se c'è l'ordine a casa lo paghi di più il materasso come venditori porta a porta noi andiamo lì costerebbe 10 in negozio costerebbe 10 in fabbrica costerebbe 10 anche a casa tua andiamo lì ti consigliamo tempo di produzione noi produciamo tutto su venduto per cui non è che noi andiamo a magazzino prendiamo una settimana 10 giorni te lo portiamo a casa e aggiungiamo appunto che anche la consegna è compresa nel nostro territorio è gratuito logicamente se c'è l'ordine da Milano è normale che ha un costo maggiore è consegna gratuita abbiamo possibilità di fare come diciamo anche pagamenti artizzati e in questo momento siamo riusciti ad ottenere anche un pagamento artizzato a tasso zero con la prima scadenza nel 2021 per cui uno lo può acquistare oggi lo pagherà da febbraio marzo 2021 inizierà a pagare il materascio senza raggiunta di interessi per cui diamo ancora agevolazioni e aiuto a chi ha necessità dell'acquisto diciamo adesso qui proprio si fa pubblicità ma diciamo proprio chiaramente che questo è il momento giusto tra l'altro se non sbaglio guardando nella pagina facebook quella dell'azienda non quella personale nella quale ho sbirciato per i segreti c'è una proposta un'offerta in questo periodo c'è il Black Friday che andiamo fino al 29 con questo tasso zero che è una cosa molto positiva abbiamo visto che molti hanno accolto questa cosa e soprattutto in questo periodo di descrizioni che ci sono avevamo un po' timore che portasse a una chiusura più che altro mentale più che invece abbiamo visto che anche nel weekend perché noi siamo aperti anche domenica c'è stato un buon accursio di persone un buon interesse per cui siamo contenti di quello che sta avvenendo insomma ecco il merito è vostro ma è anche di Rossini TV con tutto il risalto che sta dando e con quello spot meraviglioso con la danzatrice che fa sognare e chiaramente la danzatrice che gira ti faccio ridere allora noi abbiamo una collaborazione come hai visto anche su Facebook come hai visto anche nel sito noi abbiamo una collaborazione con delle aziende locali produttrici di letti noi produciamo materassi poi abbiamo un'azienda che produce letti in ferro un'azienda che produce letti imbottiti con cui abbiamo una sorta di scambio merci diciamo per cui siamo in grado di dare dei letti a prezzo di fabbrica come se fosse il materasso l'azienda che produce letti in ferro ha visto di cui il titolare sono moglie e marito ha visto lo spot la moglie mi chiama e fa vuoi ridere mio marito ha visto bello lo spot non si è accorto neanche che c'erano inquadrati i suoi letti ha guardato la ballerina e l'ha distratto non si è neanche accorto che c'erano i suoi letti inquadrati infatti quello è un rischio a cui i pubblicitari devono prestare molta attenzione cioè ci sono spot talmente accattivanti belli e comunque intriganti che ci si perde anche alla fine l'identificazione col prodotto se uno rimane dice bello quello spot lì che cos'era non mi ricordo lì si capisce bene che i materassi ci sono perché gira per materassi per cui va benissimo e invito i telespettatori a prestare attenzione a questo spot allora il tempo corre e fugge però io direi se Allegra è lì di accompagnare l'ospite conclusivo oppure di far venire l'ospite conclusivo da solo perché Allegra poi scoprirete chi è la nostra segretaria di redazione Allegra guarda allora accompagnami Carlo tu Giovanni rimani con noi e tu sei di Pesaro e allora ti farà piacere sedere nello stesso divano con Carlo Pagnini che è oltre che mio padre e anche vieni vieni guarda abbiamo deciso che facciamo telecamere aperte per cui Carlo Pagnini è in qualche modo il riferimento cittadino per quanto riguarda il dialetto pesarese e allora per concludere visto che comunque siamo dalle parti della conclusione della trasmissione le abbiamo invitato per fare per fare un saluto tra l'altro nella trasmissione nella quale l'assessore Rimini e Giovanni Arduini mi hanno tenuto a battesimo come conduttore televisivo ho voluto anche quello che mi ha tenuto a battesimo nel vero senso della parola una montagna indescrivibile di anni fa perché veramente sono passati un'esagerazione di anni lasciamo stare non ne parliamo e niente allora mancano una manciata di minuti per cui io direi alla regia che noi potremmo adesso andare avanti con Carlo prima volevo solo dire questo in regia erano già pronti con le mani sui tastini per far partire un'altra delle cose che faremo durante le prossime puntate che sono le dediche allora io voglio ricordare prima di dare la parola a Carlo i contatti che sono whatsapp 351 70 899 77 li vedete comunque in sovrimpressione e casarossini chiocciolarossinitv.it a cosa vi servono? vi servono per mandarci delle domande che poi noi gireremo agli ospiti per mandare anche siccome io qualcuno lo sa ho un trascorso lontanissimo anche questo con le prime radio private ho preteso di portare qualcosina di quell'epoca e sono le dediche le dediche una volta si facevano con i dischi con simpatia qualcosa di più c'era un programma che le chiamavamo così adesso le facciamo sparse un po' nella puntata e le faremo con dei videoclip visto che noi siamo una televisione per cui se volete e quando vorrete potrete mandare una dedica le canzoni tendenzialmente se la dedica la volete subito le scegliamo noi altrimenti potete anche scegliere la canzone ma attenzione deve essere una canzone che ha un video che abbia un verso abbia un senso a trasmetterlo in televisione perché se no sarebbe un po' noioso da vedere da seguire ma potete fare anche un'altra cosa attraverso il canale Whatsapp potete anche mandarci dei video vostri personali nei quali ci fate un saluto vi fate un saluto reciproco tra amici insomma noi chiaramente li seduzioneremo e manderemo in onda i più divertenti i più simpatici quelli che possono aiutarci a costruire sempre di più il contatto con i telespettatori a casa di questa trasmissione che si chiama Casa Russini e ricordiamo è una trasmissione in diretta questa è la particolarità poi ci sono anche delle repliche noi siamo in diretta in questo momento voi mi state vedendo in diretta ma potreste anche starmi vedendo in replica perché appunto le repliche sono fatte uguali si prende la registrazione e si manda per cui adesso non ve li dico i giorni delle repliche li vedrete poi nei cartelli e comunque in ogni caso avrete modo di non perdere nessuna delle puntate le puntate in diretta sono in onda il lunedì il mercoledì il venerdì alle 10 allora Giovanni con cosa chiudiamo prima di dare la parola a Carlo la domanda di Rito dai un anno difficilissimo i tre momenti più belli o forse anche uno solo un momento bello di quest'anno momento bello di quest'anno ma parli della vita personale o generale tuo tuo mio sicuramente è stato il il diploma di mia figlia che il primo anno di università è andata e il discorso del negozio lavorativamente parlando è un augurio che questa pandemia passi almeno siamo più sereni più liberi la tensione è tanta in tutti i sensi bene grazie e grazie anche a nome di tutti quelli che ci stanno seguendo con Giovanni Arduini dell'arte del riposo noi torneremo torneremo comunque qui a ospitarti per finire un po' la conoscenza e per andare avanti con le varie offerte e adesso lasciamo a Carlo Pagnini il compito di concludere perché guarda siamo proprio svizzeri in questo le 10.57 e insomma ci sono quei tre minuti che avevamo calcolato per la tua poesia non lo so se tre minuti sono sufficienti ma vabbè credo che dalla regia non ci taglieranno dai comunque mi sembra di sentire qualcuno che dice questo è dappertutto come il Pundor e non sarebbe sbagliato beh non potevi dirmi di no diciamo che questa volta l'ho preteso io per cui insomma in questo caso non potevi dirmi di no non potevo dire di no e sono contento di aver detto di sì perché una trasmissione come questa per Pesaro io la ritengo come la nascita di un figlio grazie è una bellissima cosa fra l'altro poi prenderà vela e sarà sempre migliore quello che invece vi ho portato questa sera è sono le critiche che fanno è mattina attenzione al mattino no è mattina in questo momento Carlo Pagnini è abituato a fare serate per cui ha detto questa sera ma noi siamo in diretta è mattina è mattina sì comunque ho pensato di portare dei versi che ho scritto per criticare i critici perché la gente non dice sempre molto bene della città e dei pesaresi allora io ho portato questo che sono il titolo è i difetti di pesaresi è difficile a capire perché molti vengono a flimare che a pesare solo perché è per questi storci il nes non si sa perché è magia e si lamenta e non va più via questi dic papel papel che i pesaresi hanno fatto male mentre tutto è perfetto i pesaresi hanno scritto di fette gente chiusa malfideda ognuno va per la sua strada o sta rintanendo le case dove un spoggio che c'è il nese se c'è un problema è diventato ma io ne dici anche malgato infamei una confidenza ma nessuno per reticenza c'è chi giura che un giresi è più ronci di un genovese c'è chi dice che è sfadigato invidioso sconsiderato per qualcuno è vanitoso disgustoso odioso rogioso per qualcuno è sgarbetto trascendente ma l'educa è stelenco non è mai finito che l'armano ha sbalordito ma che stanno in un riongo da un bel po' di generazione sentiamo che si dipende dai e dai mi sono convinto che sono proprio di una razzaccia e che l'ho scritto la faccia mentre insieme con questa tormenta pativa internamente un bel giorno in Salmarquese un giugnato mi sono incontrato che mi ha detto oh beh come va come sei giù com'è come ti ha se hai il colore di carnevale tu che ti porti all'ospedale ti permette bisogna qualcosa sto in aiuto non dico di no non fai tanti complimenti manda porca so contenza ti puoi fare una gentilezza potrei essere la tua salvezza mentre quel mi parla dentro a me ragioneva ma com'è che è tant gentile e il mio perguasi civile se il mio cese che non si avessi sarebbe un bel po' sorpreso eh un che parla dolce e pieno e poi si è capantino pensando questa io ho risposto mi sento un po' indisposto solo per la fatalità di essere netto in questa città che per me va tanto bene ma tutta la gente la venda da queste parti senza dire certe roba che favi lì rispondono e te per questo fai questa faccia da foresta e lasci chi dica tanto gli fa molti gli parla che si sa che è quello che dici nella mente che fa felice che un giresa non è per niente come dici fat malamente ma è poca sposa non è un gran guai e ce ne tanti fatti bei tira dretto da me per me sta tranquillo non li pensai mentre lui va via ridendo un altro il ben vicino dicendo sei il figlio di grilanda posso farti una domanda lo conosci quel ragazzo del vestito sembra un pazzo un ricono un poveraccio cosa aveva sotto braccio con chi vive dove sta in campagna o quei città sai per caso sei sposato sei invece divorziato fuma beve spendazione per me quello furbacchione oggi non si è mai sicuri vanno in giro dei figuri con il viso imbambolato non sarà quel ricercato di cui parlano i giornali certo che sono tutti uguali questi cefi fanulloni con gli anelli appenzuloni o magari sotto sotto quello ha vinto un tendon lotto e nasconde la sua classe per evadere le tasse anzi visto che è abbronzato per me quello è un impiegato o ancor meglio un dirigente cosa dici non sai niente scusa ma te un trisbir ma come stai chiamandigir ma per scasso il fuoco acceso non mi dica che sei un pesarese pesarese starei fresco quel che dici tu è pazzesco è immorale anche pensarlo ma non senti come parlo tu che sei tanto scortese sei sicuro un pesarese se per colpo del destino fossi nato a Fano a Urbino ti confesso il mio risveglio già sarebbe stato meglio io neppure gli animali vorrei dare quei Natali meno meno sono contento d'aquest momento non dico più niente proprio il tempo mi ha fatto capire che mi mi soppi o davini ma che arrivi in conclusione che c'è un bel poc rompì minchione senza se niente ma che este l'uvo proprio saver ma non so niente che ragaz ma ne frega proprio un mas non so bene essere cortese perché siamo tutti dobbiamo te comunque non ci via ti invito a casa mia facciamo un applauso virtuale anche reale facciamo un applauso anche reale a Carlo Pagnini allora siamo in conclusione sono stati con noi nel salotto di casa Rossini oggi Emanuela Rossi Daniele Vimini Giovanni Arduini Carlo Pagnini la puntata si conclude qua grazie ad Allegra che ha seguito tutta la situazione poi come dico la presenteremo in dettaglio in una delle prossime puntate grazie ad Andrea in regia e l'appuntamento è a mercoledì prossimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti